Come si fa in questo ambito? E quindi diciamo che conosco bene quel settore, conosco bene quel settore legato a Milano perché a Milano c'è moltissima accoglienza e la regione d'Italia insieme a Lazio e la Sicilia che accoglie più profughi in assoluto per cui ho seguito un po' quello che è stato il mezzanino a Milano, oggi il mezzanino non c'è più e insomma ho seguito un po' di storie e ho portato anche mio figlio a capire un po' quello che sta succedendo.